Andiamo al segno dei gemelli, per voi questa triplice congiunzione nel segno del Sagittario Luna, Venere e Saturno è una congiunzione piuttosto pesante, riguarda gli altri, quel settore del cielo ha a che fare con le unioni, ha a che fare con le alleanze, ha a che fare con il rapporto con il mondo circostante e tante volte possono venirne fuori anche dei grandi scontri, qualcuno parla della casa dell'amore, altri addirittura della casa dei contrasti, delle guerre, in effetti questa è una giornata che vi vedrà spesso litigare, essere in disaccordo con le persone che vi circondano, sarete pronti anche a difendere le vostre idee a spada tratta, andiamo al segno del Sagittario Luna.